Nessun pentimento, Patrick Mallard aveva in realtà inscenato un'aggressione da parte di una fantomatica quarta persona ai danni di Daniele Maria Teresa e i due fidanzati. Questa è la prima versione dei fatti riportata dallo stesso 19enne quando è stato portato in questura a Parma nella notte tra martedì e mercoledì. A rendere la notte è stato il procuratore capo Alfonso Davino che ha accusato Patrick di omicidio volontario premeditato. Con lui in conferenza anche Massimo Lacera, questore e Cosimo Romano, dirigente della squadra mobile. Patrick ha raccontato di essere andato all'ex Molino per incontrare l'ex fidanzata e il suo attuale ragazzo, Daniele appunto, in amicizia. Ma mentre si trovava sulle tragitte ha detto di aver incrociato un uomo incappucciato in bici, così come lo stesso Patrick, ma che viaggiava in direzione opposta allontanandosi dall'ex Molino. Secondo il suo racconto e la ricostruzione volta a depistare le indagini, proprio questo fantomatico uomo in bicicletta era responsabile dell'omicidio di Daniele Tanzi e del ferimento di Maria Teresa Dromì. Questo spiega perché Patrick ha deciso di contattare i soccorsi in prima persona e anche la presenza del maglione blu strappato per depistare le indagini, fingendo che lo stesso appartenesse al presunto aggressore. Tristezza è la parola più ripetuta dal procuratore Alfonso Davino. La tristezza anche per due famiglie che per motivi diversi vedono oggi caratterizzate dalla perdita. Poi la tristezza che voglio sottolineare anche per la città di Parma che non è abituata a ragionare in termini di omicidio. Intanto emergono altri dettagli. In primavera Mallardo aveva tentato di aggredire Daniele e Maria Teresa al parco ducale di Parma e i due erano stati separati da alcuni amici comuni. In passato, quando stavano insieme, avevano anche convissuto con i genitori di lui. Patrick aveva picchiato la Dromì con la segnalazione per tre volte arrivata dalla madre di Maria Teresa alle forze dell'ordine. Maria Teresa tramite il profilo Facebook di uno zio ha salutato Daniele, riposo in pace amore mio, ricordando che con lui stava ritrovando serenità dopo un'adolescenza difficile passata anche da una comunità. E poi, mentre su Facebook un ex professore di Patrick parla di uno studente educato e tranquillo, ecco una vicenda che emerge tra le pieghe di Instagram. Due anni fa, scrive un ragazzo di Parma, prese di spalle un mio amico, un altro lo tenne fermo e lui gli spaccò la faccia con le mani pieni di anelli.